Diario di due imprenditori digitali. Il podcast dove condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo, ragionando insieme per far crescere i nostri business online utilizzando il digitale. Un dietro le quinte in cui vi raccontiamo la nostra avventura di business online, gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati. Sono Marco Gatti di PresentazioneAnimata.it, un servizio di video animazioni professionali che ti aiutano a far comprendere meglio il tuo prodotto e il tuo servizio. Sono Daniele Besana di WPOK, servizio di supporto WordPress ad abbonamento, prezzo fisso e risultato garantito per piccole aziende professionisti. Ciao Marco, puntata numero 17, quella di oggi per l'Iario di due imprenditori digitali. Spero che tu non sia eptacaidecafobico, che ho scoperto oggi vuol dire avere una fobia, una paura terribile per il numero 17. Ho anche scoperto che su alcuni aerei dell'Italia non c'è la fila numero 17, proprio per Scaramanzia. Ciao Daniele! Per Scaramanzia, girando il mondo, ognuno ha i suoi numeri. I cinesi c'hanno il 4, in alcuni alberghi non c'ha il 13, qualcuno il 17. Tengo a precisare che ho comunque una laurea in fisica, io con i numeri ci sguazzo. Non ho alcuna Scaramanzia, anzi sarà la puntata migliore di sempre. Dove sei di bello? Sono in una freddissima Milano, in partenza per la Polonia, dove ci sono 10 gradi in meno che qui, e quindi so che ci sarà una massima di meno 3 gradi in Polonia, però poi quando torno, pochi giorni dopo riparto per l'Arabia Saudita, dove ce ne saranno almeno 35. Spero di non prendermi un accidente con questi sbalzi di temperatura. Io sono ancora ad Amsterdam, qui ha nevicato ieri, giusto per dirti siamo comunque intorno agli 0 gradi. Fa freddo, Massimo esiste. Ringraziamo i nostri digi-imprenditori che ci hanno lasciato una recensione su iTunes. Invitiamo tutti quanti a lasciarci una recensione che ci permette di dare visibilità al podcast. Quindi ringraziamo Sauro, Mottura, grazie 5 Stelle, tanti ma tanti spunti molto utili per chi naviga nel mondo del digitale e non solo. Poi ringraziamo Nemo, Digital Guru Beware. Mi hanno obbligato a fare questa recensione perché se no non mi lasciano venire via dal ristorante in cui sono a mangiare con loro. A parte gli scherzi, ottimo ascolto divertente, ispirante e soprattutto vero. Cosa non si deve fare per avere una recensione in più? Io ringrazio anche i digi-imprenditori che si sono uniti al nostro gruppo Telegram e in particolare sono partite due nuove iniziative, quindi voglio ringraziare ufficialmente e pubblicamente la nostra Nina, la copywriter entusiasta, per aver lanciato un gruppo Telegram dedicato a chi fa corsi online, a chi sta preparando dei corsi online. E poi voglio ringraziare anche Andrea Barilli che dalla Tunisia ha aiutato a creare il gruppo dedicato al Lean Coffee, questa iniziativa dove ci si incontra online per parlare di diversi argomenti che sono stati scelti attraverso una votazione e il primo incontro, il primo Lean Coffee targato digi-imprenditori sarà lunedì 28 alle 8.30 di mattina. 28 gennaio 2019, primo Lean Coffee di tutta la stagione dei digi-imprenditori e se siete interessati a partecipare anche voi, nelle notte dell'episodio trovate il link per registrarvi. Marco, come sono state queste due settimane? Queste settimane sono state intensissime, piene di eventi, avevo un obiettivo che era quello di pubblicare il mio puscolo, ce l'ho fatta proprio ieri perché avevo questo, dovevo raccontarlo a te Daniele, mi sono preso questo impegno e ho pubblicato, sono riuscito a farmi pubblicare su Amazon e adesso la figata che è in tutti gli Amazon del mondo, se digiti Marco Gatti viene fuori il mio libro. Il libercolo. Il libercolo, purtroppo non si può mettere a zero gratuito e quindi è al minimo possibile a 99 centesimi di euro oppure su altri store a 99 centesimi di dollari, costa leggermente meno, quindi su Amazon.com, Marco Gatti, 99 centesimi di dollari. È un obiuscolo secondo ottenere il meglio dalle video animazioni, comunque generalmente da ogni video, quindi una volta che abbiamo un video dobbiamo pubblicarlo come ottenere il più possibile dal video stesso. Obiettivo centrato al 100%, e te Daniele dovevi fare un videocorso? Sì, il mio obiettivo unico e imprescindibile era creare il corso Udemy sulla manutenzione di siti WordPress. Il corso non è finito, però lo considero un successo perché è veramente stata la cosa che mi ha preso più tempo nelle ultime due settimane, ci ho dedicato molto tempo e mi mancano quattro lezioni su un totale di 22 lezioni che ho pianificato finora. Nel corso della puntata parlerò un po' più approfonditamente di questa esperienza qui creando un corso. Come dicevo prima, queste due settimane ho partecipato a diversi eventi, ben quattro eventi, sono stato al Grow Hacking Day, sono stato alla 10x Revolution di Alfio Bardolla, al mio corso che è tutti i mesi di public speaking e a un evento a Milano sulla Buyer's Journey. C'è un problema a partecipare a questi eventi, ho scoperto. Ogni volta che impari qualcosa di nuovo ti viene sempre in mente qualche business nuovo e adesso il grosso problema che io ho è come dare priorità alle cose nuove da fare, che non è una priorità ai task, ma è proprio priorità ai progetti. Su questo non ho trovato una soluzione, anzi spero che se ne parli nel link off del 28 e se qualcuno ha dei suggerimenti su come dare priorità proprio ai progetti. Perché per quanto riguarda i task è abbastanza semplice, si trova tante informazioni su internet, ci sono vari schemi su cui tu puoi darti la priorità, quali considerare, quali non considerare, cosa delegare, cosa cancellare. Invece adesso quello che ho deciso è, ho un foglio dove scrivo tutte le idee che ho, però mi sto dando come regola di non partire con nessuna idea finché non ne ho chiuse altre, non ho chiuso altri progetti. Questo perché, come diceva Jack Ma, il fondatore dell'Ibaba, mi trovo a inseguire troppi conigli e a non prenderne neanche uno. Ho l'ideona di fare una cosa, mi cibuso quella cosa, poi ne viene un'altra, abbandono la cosa che avevo iniziato per farne un'altra, non è il modo giusto di lavorare. E quindi, bacheca delle priorità, bacheca delle proprietà dei progetti, bacheca dei progetti in corso e devo prima smaltire alcuni progetti che ho già avviato prima di farne altri. Bene Marco, io sono stato totalmente assorbito, come dicevo, dalla creazione di questo corso Udemy e è stato un percorso interessante. Innanzitutto, perché Udemy? Anche nel gruppo dedicato a chi sta creando corsi si stava parlando, insomma, poi è la piattaforma migliore e come spesso succede bisogna pensare prima alla strategia, poi alla tecnologia. La strategia che io ho con questo corso non è di arricchirmi vendendo il corso, ma di creare autorevolezza, perché noi di WPOK siamo gli esperti nella manutenzione e di gestione dei siti WordPress e quindi siamo talmente fighi che con l'esperienza che abbiamo raccolto in questi anni ci abbiamo fatto pure un corso. E quindi Udemy mi è risultata la piattaforma ideale per questo tipo di strategia, perché comunque è un marketplace dove una parte del marketing la fanno anche loro mettendo il tuo corso in fronte a chi fa ricerche su Udemy direttamente, ma anche attraverso tutte le campagne di email marketing che fanno loro. Quindi ha il potenziale di raggiungere più persone. Poi è una piattaforma molto semplice da utilizzare, creare un corso è una procedura guidata estremamente semplice da seguire. Mi piace molto che hanno un'app sia per il cellulare che per il tablet e quindi io posso seguire i corsi sia sul computer che sul cellulare che sul tablet e rimangono sempre sincronizzati, ho sempre accesso a tutti i miei corsi. E poi tutta la parte di amministrazione è estremamente semplificata perché comunque i clienti comprano da Udemy e Udemy si preoccupa di fare ricevuta, fattura, IVA, tasse, mica IVA. Quindi ecco non è la piattaforma dove ci si può arricchire perché comunque fanno sempre delle promozioni, fanno tantissime promozioni quindi qualunque prezzo tu inserisca alla fine è molto probabile vedere il corso scontato alla grande. Non è la piattaforma giusta per corsi che hanno un prezzo alto perché comunque c'è un massimo di mi pare 200 euro di prezzo massimo del corso. Insomma quella strategia che ho io per questo corso che sto facendo mi sembra la piattaforma giusta, poi vedremo con il tempo. Poi tutta questa cosa di fare il corso mi ha aperto gli occhi sul mondo che assolutamente non conoscevo, cioè l'importanza delle luci quando fai video. Io arrivo a questo corso con un pregresso di video molto caserecci fatti per YouTube e andavano bene così, cioè sono video dove comunque parlo di cose più o meno tecniche, parlo di cose legate a business online e va bene. Però adesso che comunque ho da presentare un corso ho voluto migliorare un po', fare un passo avanti sulla qualità del video e quindi mi sono dovuto scontrare con tutto il discorso di luci. Ho provato l'approccio casereccio con qualche lampada che avevo in giro, non sono riuscito ad arrivare molto lontano, quindi adesso se mi fessi vedere sono qui con due ombrelli riflettenti puntati in faccia con delle lampade nuove, delle aste che ho appena comprato. Ho comprate, suggerimento tra l'altro di nostro caro Giulio Gaudiano, per meno di 40 euro su Amazon ho ordinato tutto questo kit di lampade e ombrellini per fare video. Ma ce le hai accese anche adesso che stai registrando il podcast le luci? Eh no, perché se devo risparmiare sull'elettricità Marco. Bravo Brian Solo, bravo. Eh, spento tutto, anche il frigorifero, no vabbè il frigorifero no, no sono spente però ce le ho qua posizionate perché è stato qua da poco un mio amico, non che fotografo, che mi ha dato una mano per posizionarle e fare il setup giusto. E dicevo un'altra cosa che ho imparato facendo questo corso, ho deciso di fare tre tipologie di video diverse. Alcune sono video testa parlante, dove ci sono io davanti alla webcam che spiego delle cose. Altri video saranno invece delle lezioni dove mi faccio supportare da una presentazione perché risulta più facile da seguire per chi vede la lezione. E un altro tipo di video ancora è uno screencast dove faccio vedere che cosa faccio su un sito WordPress di test. E qui ho deciso che nei video dove c'è la presentazione oppure lo screencast non metto la mia immagine in webcam. La tipica immagine, sai, la tua faccia in basso a destra presa dalla webcam. Questo di solito lo faccio per i video che faccio per YouTube perché lì tante volte sono dei video che sono primo contatto con qualcuno che non mi conosce, quindi mi sembra giusto far vedere la faccia. Invece nel contesto di un corso dove comunque mi hanno già visto, le prime lezioni dove mi presento, spiego chi sono eccetera, non l'ho trovato così importante. Però in realtà ha semplificato notevolmente tutta la parte di creazione perché così proprio è tutto un layer aggiuntivo che è quello legato appunto al video e alla webcam. Quindi è stata una cosa che mi ha permesso di andare avanti un po' più spedito. Comunque su 22 lezioni ne mancano solo 4 e arriverò alla versione 1.0 del corso che poi sarà sicuramente migliorabile e conto di espanderla nel tempo, di mettere una sezione di domande e risposte, però dai una prima versione per poter dire che il corso è fatto e il progetto è finito. Daniele, per quanto riguarda i video in cui non vuoi metterci la faccia, hai pensato magari di fare un'introduzione, 10-15 secondi, a schermo pieno con la tua faccia e poi solo la parte finale, i saluti, la conclusione della lezione, solo 15 secondi e poi per il resto puoi tenere lo screencast dello schermo. Potrebbe essere una soluzione, non so se complica troppo le cose rispetto a fare semplicemente uno screencast. No, si può fare, ci ho pensato, però l'ho lasciata come una cosa per il futuro. Quando tutte le lezioni pronte posso pensare magari di fare delle piccole introduzioni. Tra l'altro, scusa, parlando di Udemy e parlando di corsi in generale, ho appena scoperto il podcast di Davide Rampoldi che tra l'altro è un vigi imprenditore che è all'interno del nostro gruppo Telegram. Il podcast si chiama Crea il tuo corso e in modo simpatico ma molto accurato il Rampoldi analizza tanti aspetti della creazione dei corsi. Per esempio ho ascoltato una puntata in cui proprio parlava di Udemy e lo analizza molto bene. Ha anche analizzato tante altre piattaforme per fare corsi, quindi pian piano mi ascolterò tutte le puntate precedenti. Ottimo podcast, consiglio. Va bene, mettiamo nelle note dell'episodio anche questo podcast perché può essere interessante per tanti digi imprenditori. Danieli, ti ho detto che in queste due settimane ho partecipato a quattro eventi. L'evento che mi ha emozionato di più, che mi ha lasciato più il segno, è stato il Grow Hacking Day. Hanno fatto un evento di un giorno a Milano e due pre-eventi. Ho potuto partecipare a un pre-evento. Forse il pre-evento era ancora più interessante perché c'erano molte meno persone. era una cosa un po' più intima. Volevo dire le tre cose che mi sono portato a casa da questo evento. La prima è stata la spiegazione del funnel dei pirati. I Grow Hacker utilizzano questo funnel. Il nome è proprio un nome da marchettare. Non è altro che un funnel che segue i passaggi dell'utente. Il classico funnel di vendita su internet, loro lo chiamano A-A-A-R-R-R, che è l'acronimo delle iniziali. La prima parola è awareness, quindi è la prima fase in cui ci trovano. C'è una fase di acquisition, in cui abbiamo una mail. C'è la terza fase di activation, quindi di attivazione, in cui il cliente non è più un cliente dormiente, ma è un cliente che comincia a interagire con noi, ci conferma l'email, crea un profilo, se hai un'app, qualcosa di free, si iscrive. C'è la fase di retention, quindi l'utente torna e comincia a essere sempre più attivo. Una fase di revenue, in cui l'utente paga il tuo servizio. E alla fine, la fase finale è quella di referral, quindi l'utente che ne porta altri. Queste sei fasi poi, a seconda della tipologia del business, possono essere invertite qualcuna rispetto alle altre, però in genere ci sono tutte queste sei fasi nella customer giorni del cliente. Soprattutto una cosa che non ho mai considerato, per quanto riguarda le mie videoanimazioni, è la fase di referral. Quando il cliente ha fatto il video e è molto contento, io mi fermavo sul chiedergli la referenza. In realtà il referral non è solo avere una referenza da mettere sul sito, ma è quando l'utente ne porta altre. E quindi mi sono venute in mente alcune strategie da utilizzare per incentivare il cliente che ha già provato il mio servizio, che è contento del mio servizio, a propormi o a suggerirmi a gente che lui conosce. E quindi ci sto lavorando ed è una delle cose che ho messo nei progetti nuovi. Ad ogni fase del funnel dei pirati corrispondono dei KPI, quindi bisogna per ognuna di queste fasi trovare quali sono i KPI più adatti per il proprio progetto. Il grow hacking consiste nell'andare a lavorare in ognuna delle sei fasi per vedere di migliorare il KPI di quella fase lì. Il grow hacking è una metodologia per cui pezzo per pezzo si va a aumentare la percentuale di conversione. Quindi non solo in un singolo punto del funnel, ma considerandoli tutti quanti. Interessante, ovvio, dopo che te l'hanno detto, era meno ovvio nella mia testa prima che facessi l'evento del grow hacking day. La seconda cosa che mi porto a casa è un tool che si chiama Real Time Board, che è un tool di collaborazione. È praticamente una lavagna bianca infinita, grossa quanto vuoi, che ti permette di mettere mappe mentali, degli schemi. Puoi mettere delle... Puoi fare il business canvas. Ci sono già degli schemi già preimpostati, per cui se vuoi un business canvas e ti metti già lo schema del business canvas, ci lavori sopra, ti permette di fare dei flow chart, ti permette di fare delle votazioni col team, perché poi questa lavagna si condivide con altri del tuo team, ci si può lavorare insieme. E tu vedi anche l'altra persona che man mano si costruisce questo progetto. C'è anche l'app, funziona anche da app, molto bene, e quindi serve per me per raccogliere le idee. Quando ho un progetto nuovo mi faccio questa mega lavagna dove mi metto in mente tutte le idee. Dove faccio il business model, dove metto le risorse che mi servono, qualsiasi cosa mi viene in mente, la mappa mentale, tutto si può fare. E c'è anche la versione gratuita che fino a 5 board è gratuito. Quindi è veramente interessante. interessante. Ovviamente nelle notte dell'episodio vi metto il link. Poi nella versione a pagamento ho visto, non l'ho provato, che si può fare lo screen share, che si può fare le video chat all'interno. E quindi per chi ha dei collaboratori in remoto potrebbe essere uno strumento molto interessante per organizzare le idee. Ecco, a parte queste funzionalità premium, per il resto come lo confronti rispetto a una mappa mentale, tipo Mind Meister? Che la mappa mentale è solo mappa mentale. Quindi tu fai solo la mappa mentale. Lì metti una mappa mentale accanto al business canvas, per esempio, o accanto a un flowchart, accanto degli appunti. E quindi puoi fare tantissime cose insieme nella stessa lavagna. E poi è molto easy, molto friendly. Proprio come interfaccia mi è piaciuto molto. Quindi vi consiglio di almeno di darci un occhio, di testarlo, perché potrebbe essere utile per dei progetti. Se avete o un team remoto, oppure se avete un progetto con un cliente, potete condividere con il cliente la tabella e lavorare insieme, mettere idee, qualsiasi cosa. Cioè, bisogna dare solo spazio all'inventiva. Poi fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi è stato utile. Tutto questo, sia il fan dei pirati che questo real time board, devo ringraziare in particolare Raffaele Gaito, che è stato lui a citare queste cose. Veramente un ragazzo molto in gamba, che proprio si vede che è portato per fare comunicazione. Grazie, Raffaele. La terza cosa che mi porta a casa è che devo trasformare la mia azienda e le mie aziende in data-driven company. Oramai data-driven company è abbastanza sulla bocca di tutti e non c'è verso. È l'unico modo per poter prendere delle decisioni serie. Dopo vi faccio un esempio di cosa vuol dire essere data-driven. Grande Raffaele Gaito, conosco anch'io e diciamo sta diventandolo sempre di più il portabandiera del movimento grow hacking italiano. È veramente in gamba. Allora, io, come dicevo, sono stato precedentemente assoluto con il discorso di Udemy. Però qualcos'altro che mi va di condividere è un esperimento che avevo iniziato un mesetto fa con Quora.it, cioè la versione italiana di questo servizio dove è un po' come gli au-answers. Si possono scrivere delle domande e si ricevono risposte da persone più o meno esperte dell'argomento. Sono un sacco di domande assurde. Io ho seguito l'area dedicata a WordPress e sul suggerimento del mio SEO ho creato risposte per argomenti dove abbiamo già degli articoli sul nostro blog e quindi Quora permette di inserire anche dei link all'interno delle risposte. Ovviamente sono risposte che vanno scritte molto bene anche perché comunque prima della mia risposta c'erano già delle altre molto accurate scritte da altre persone che stavano facendo più o meno la stessa strategia mia. Quindi delle risposte molto accurate dove si inserisce un link e quelle risposte rimarranno nel tempo sia come backlink, vabbè questo aspetto più SEO, che poi come valore reale perché chi cerca la stessa risposta finirà su Quora e quindi leggerà le risposte, leggerà anche la nostra risposta. Ora stavo guardando un po' le statistiche dopo un mese di questo esperimento. Finora ho risposto a sei domande, quindi ho scritto sei risposte e ho notato che per le prime due settimane dopo aver creato le risposte ottenevo una media di 20 visualizzazioni al giorno. Visita al giorno, ok. 20 persone vedevano le risposte. Dopo due settimane però c'è stato un crollo, un crollo molto notevole e sono curioso di approfondire questo comportamento nelle prossime settimane, nel prossimo mese per capire se effettivamente è una qualche modalità legata a come funziona Quora. Comunque punto a essere un po' più attivo su Quora, comunque sto tenendo monitorati gli argomenti legati a WordPress e dove è possibile voglio dare risposte. Daniele io non ho mai utilizzato Quora e non ho idea di come si possa fare una cosa del genere, però è molto interessante quello che mi hai detto. Volevo farti alcune domande, alcune riflessioni. La prima è che forse le visualizzazioni scendono perché la domanda a cui tu hai risposto magari non è più tra le prime che si vedono per WordPress ma va sotto, potrebbe essere. Tu hai detto che c'è una sezione di WordPress, cioè è fatto a settori o hai una chiave di ricerca, metti WordPress e ti vengono tutte le domande su WordPress? Perché sto pensando alle videoanimazioni. Sono proprio delle categorie. Ah ok, perfetto. Quindi se non c'è potresti creare la sezione videoanimazioni magari. Poi per quanto riguarda il link al tuo blog, nelle risposte citavi anche il tuo blog per approfondire? Esatto sì, di solito rispondo alla domanda in modo quanto più accurato e a volte anche prendendo magari da un angolo diverso rispetto alle risposte che sono già state date. Anche perché le domande sono spesso molto brevi e lasciano spazio a diverse interpretazioni. Alcune sono veramente criptiche e quindi insomma da una spiegazione, un'interpretazione della domanda o meglio sto provando questo approccio, faccio la risposta breve, cioè scrivo risposta breve, questa è la risposta, risposta lunga e invece faccio un po' più di spiegazione, così che chi sta cercando sia la versione diciamo immediata che invece la versione più approfondita e alla fine della versione più approfondita scrivo, scrivo ok, se vuoi approfondire abbiamo questo articolo sul nostro blog e metto il link. Daniele potresti hackerare Quora? Quando tu scrivi un articolo sul tuo blog chiedi a qualcuno di fare una domanda relativa su Quora e poi tu tac, entri dentro a gamba tesa e rispondi. Si può fare, si può fare, sì. Daniele prima dicevo della data driven company per cui ho incominciato a lavorare sui numeri e quindi sulle conversioni. Su presentazione animata uno dei modi per ottenere l'e generation e contatti è quella di dare al cliente il listino e il catalogo in cambio della mail. Nella home page nel menu in alto c'è pagina prezzi oppure scorrendo nella, si trova anche scorrendo nella home page che va a finire su una pagina. In questa pagina c'è scritto se vuoi il listino vada dammi la mail e ti mando il listino. Io avevo una conversione del 30% nell'ultimo mese quindi 30% della gente che atterrava su questa pagina cliccava per avere il listino. Studiando, facendo i primi test con ClickFunnel che fa delle landing page bellissime, fighissime, pop up, bottoni molto più belli, ho fatto una pagina utilizzando lo stesso contenuto identico quindi il testo è lo stesso. La formattazione per me era molto più bella. Ho sostituito la pagina con quella di ClickFunnel conversioni 5%. Ora questo è altamente demotivante, da un lato è altamente demotivante perché dice come ho fatto una roba molto più figa ma non converte. La seconda mi ha fatto capire che se non sei data driven e quindi se non misuri esattamente i click e tutto non puoi prendere decisioni oggettivi. Sì, l'ho visto che c'era un calo di, ma passare dal 30 al 5 per me, io sono qui adesso ogni tre ore che vedo se c'è stata una conversione perché non riesco a capacitarmi di come una pagina molto più bella converta di meno. Marco però su questa nuova pagina tu hai messo i prezzi. No, 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 è uguale come prima, è uguale a quella di prima, solo fatta con uno strumento diverso, è una pagina molto più bella. Può essere che c'è una distonia tra il sito e la nuova pagina perché il format, i font sono un po' diversi, però può essere solo questo, bloccare tutto. Allora adesso ho attivato Hotjar e quindi voglio andare a vedere con le heatmap se si riesce a capire che cosa succede perché gente ne arriva lo stesso su quella pagina. Quindi ho attivato le registrazioni di quello che fanno i clienti di dove cliccano e vediamo se riesco a capirne di più. Male che vada, si ritorna alla versione precedente perché quello che conta è aumentare le conversioni. Mi sto trasformando in Growhacker. Ma hai fatto anche modifiche sul copy tra una versione e l'altra? Il copy è esattamente identico, cambia la formattazione grafica. No, l'unica cosa che ho fatto perché poi la pagina del listino, la figura del listino, era una figura che non mi piaceva tantissimo perché il listino è bianco e sullo sfondo bianco non contrastava bene, ma questo anche nella pagina precedente. Allora ho voluto fare un mock-up diverso e cercando tra i vari siti di mock-up, ne ho trovato uno che si chiama diybookcovers.com, metto nelle note dell'episodio il link, esatto, che fa un mock-up ma ti dà il file in altissima definizione, tant'è vero perché di solito questi sistemi ti danno il mock-up a 300-500 pixel massimo. Poi se vuoi la versione in alta risoluzione devi pagare. Questo qui alla fine mi ha dato un file da 2000 pixel e con dei mock-up che puoi mettere solo il libro oppure solo tablet o solo smartphone o un mix dei due o dei tre. Fantastico, bellissimo, se ti serve il mock-up anche per il tuo video puoi utilizzare questo sito. Marco io volevo condividere un paio di cose legate a Amazon. La prima era una disavventura che mi era capitata qualche mese fa, cioè sono affiliato Amazon su Amazon.com e Amazon.com i pagamenti li fa tramite l'assegno, questa è una cosa di cui ho parlato già qualche puntata fa, o ti spedisce a casa direttamente l'assegno oppure puoi fare un trasferimento su un conto corrente americano. Avevo attivato TransferWise che ha l'account americano virtuale e solo che quando mi hanno mandato il payout c'era 30% o meno che ho scoperto essere trattenuto da loro come tasse. Ora sono stato in ballo per un po' di tempo con il supporto Amazon, perché forse era già più di un mese fa che è successa questa cosa, ho iniziato a parlare con il supporto Amazon. Alla fine quello che ho fatto è stato rinviare le mie informazioni relative alle tasse, quindi quella dichiarazione, quel modulo W8BAN, dove dichiaro che non sono cittadino americano, che non ho interessi commerciali in America, insomma c'è da fare una dichiarazione che comunque si può fare online sul sito direttamente di Amazon Affiliate e risolta questa cosa hanno approvato il rimborso delle tasse trattenute e quindi ieri mi è arrivato questo bel assegno da Amazon con qua in mano in questo momento che sono comunque insomma qualche centinaio di dollari di tasse che erano state trattenute. Quindi sono contento, questa cosa è stata risolta grazie al supporto Amazon. L'ho trovato un po' lento come supporto sulla parte affiliati, però la cosa è andata a finire bene. Sempre il tema Amazon, AWS, quindi tutti i servizi cloud di Amazon. Ho scoperto di recente che c'è un'iniziativa, si chiama AWS Activate ed è pensata per le startup. Me l'aveva parlato un amico, io ho provato a mandare l'applicazione, a compilare il form, insomma dando i dati della mia azienda di WPOK di quello che facciamo. Ho detto, boh, non so se rientro nella categoria startup. Bene, è stato approvato e quindi mi ritrovo con 15.000 dollari di crediti per tutti i servizi cloud di Amazon e qui 1.000 dollari per lo storage S3, che è lo storage appunto di Amazon. Un credito di 1.000 dollari che è valido per due anni. Ora, io S3 lo uso per salvare nel cloud il backup di tutti i clienti e quindi è un credito che mi fa molto comodo, che vado ad utilizzare sicuro. Ci sono diversi sviluppatori anche nel nostro gruppo, penso che potrebbe essere un'iniziativa molto interessante. Il link ovviamente nelle note. Ne sai una più del diavolo. Bravo Daniele. Daniele, un'altra cosa su cui ho lavorato è, ho attivato l'account di Trustpilot, che è un servizio di terzo di referenze, perché attualmente io prendo le referenze dei clienti e le trascrivo sul sito. Quindi sono comunque referenze filtrate che metto io, mentre Trustpilot è un'applicazione terza di cui io non ho il controllo e quindi in teoria è molto più affidabile delle referenze che uno può mettersi sul sito. L'ho appena attivato, mi hanno accettato, ho preso le prime referenze dai clienti nuovi e vediamo se può aiutare nella conversione dei clienti, quindi nel creare fiducia con i clienti. Te lo suggerisco anche per te. So che anche tu hai una pagina di referenze, però magari poter utilizzare anche un sistema terzo potrebbe aumentare la fiducia che dai. Ottimo, sì. Anche perché adesso li mando alcuni sulla pagina dove c'è un form da compilare, però appunto poi le informazioni le ricevo io e le pubblico sul sito. Oppure ho testato un po' mandando le persone sulla pagina Facebook. Però sulla pagina Facebook ho trovato che non puoi guidarli o dargli dei consigli su come scrivere la recensione e quindi la qualità l'ho vista molto inferiore rispetto a fargli compilare un piccolo form dove comunque do qualche indicazione su come scrivere. Ma anche su Trustpilot non li puoi più di tanto guidare. Trustpilot ti manda una mail, la mandano loro direttamente, graficamente molto carina, già compaiono le 5 stelle e poi clicchi, dai rating e lasci un commento. Ed è anche integrabile direttamente su WooCommerce o Shopify. Per cui in automatico puoi fare in modo che lasciano i commenti senza dover tu ogni volta inserire manualmente il tutto. Quando mandi questa richiesta? Allora, siccome io non ho un e-commerce e quindi non la posso integrare, ho una simile integrazione perché se tu gli mandi, gli mandi te, tu entri nel tuo sito di Trustpilot, metti nome e e-mail del cliente e loro mandano l'e-mail del cliente e avviene il processo di recensione. Però in questo caso viene evidenziata che questa è una recensione un po' pilotata. Quello che suggeriscono di fare è che quando, almeno per il mio caso, il cliente salda il conto della videoanimazione, quando gli mando la fattura di saldo metto in copia nascosta un indirizzo di Trustpilot e loro in automatico vedono che c'è veramente un collegamento tra l'acquisto e il cliente. Per cui quella recensione ricevuta in quel modo ottiene verificata da Trustpilot. Non è una recensione di un amico, ma loro mettono il timbro verificato da... C'è l'account free per chi pensa di avere meno di 100 recensioni al mese e poi ci sono gli account a pagamento. Bene Marco, direi che possiamo andare in chiusura. Parliamo degli obiettivi delle prossime settimane. Avevo due obiettivi, per colpa tua se ne è aggiunto un terzo. Allora parto dal terzo che è quella di mandare a AWS di Amazon la richiesta per avere un credito di 15 mila dollari. Il secondo obiettivo è quello della pubblicazione dell'Ibercolo, di fare una landing page e di provare a portare traffico attraverso Facebook. Mentre il terzo obiettivo è quella di fare un corso di podcasting per il business che ha fatto il nostro amico Paolo Pugni che ha due podcast, il podcast Vendere Valore e il podcast Imprenditore di Successo che tiene assieme a Francesco Smorgoni. Sono due dei podcast che seguo e da cui traggo tantissime informazioni anche da un punto di vista imprenditoriale, anche se loro non si rivolgono a un pubblico di imprenditori digitali, ma a un pubblico di imprenditori più vasto. Bene, sto seguendo anch'io questo nuovo corso di Paolo Pugni. È molto interessante, podcasting per aziende. I miei obiettivi sono due. Il primo è finire il corso Udemy e il secondo è lanciare il corso Udemy. Quindi anche per le prossime due settimane sarò concentrato su questa cosa che voglio assolutamente finire e lanciare. Ce la fai a registrare 18 episodi del tuo corso? Sono 18 quelli che ti rimangono? No, ne mancano quattro. 18 li ho fatti, ne mancano quattro. Poi un paio le voglio riregistrare, quindi 5 o 6, però vedo che adesso con tutta l'attrezzatura si andrà spediti, dai. Perfetto. Va bene, Daniele. Allora non ci resta che risentirci tra due settimane. Esatto, Marco. Ci aggiorniamo tra due settimane. Ricordatevi di iscrivervi al podcast per non perdere le prossime puntate. Lasciateci delle recensioni su iTunes o Spreaker e fateci sapere cosa vi è piaciuto. Benvengano i vostri suggerimenti sulle tematiche affrontate. Ringraziamo il nostro editore YouMediaWeb e se volete contattarci andate su vgimprenditori.it oppure trovate i nostri dati nelle note all'episodio. A presto. Ciao. 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 Grazie a tutti.